Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Tuccio del Circolo Zenzero e faccio parte del gruppo che ha organizzato da mesi queste conferenze. Intanto se mi vuoi dare la due. Io faccio parte di questo gruppo come paziente cronico da 35 anni che si confronta con il nostro sistema sanitario. Abbiamo iniziato a settembre scorso e abbiamo iniziato durante l'estate a parlarne per illustrare e far capire alla cittadinanza come dovrebbe cambiare la sanità territoriale in seguito al decreto 27 del 23 maggio del 22. Abbiamo cominciato con le nuove strutture sanitarie parlando di casa della comunità, di ospedale di comunità. Abbiamo poi intervistato medici di una casa di comunità in Emilia Romagna e altri di una casa in Toscana dove queste strutture le hanno realizzate e sono attive. E il personale che ci lavora dentro è molto contento. Abbiamo visto nell'incontro di dicembre una figura molto interessante, quella dell'infermiere di comunità che dovrebbe realizzare quella famosa sanità a domicilio. E portare a casa del malato quello di cui ha bisogno e non farlo muovere. Nell'ultimo incontro, anche per me grazie, nell'ultimo incontro abbiamo affrontato il problema del rapporto fra l'ospedale e le cure primarie. Cioè come viene garantita la continuità assistenziale quando una persona esce dall'ospedale e dovrebbe essere presa in carico dalla medicina territoriale. Continuità assistenziale che è importantissima soprattutto per i pazienti cronici o per i pazienti anziani e fragili, pazienti che oltre alla patologia di base hanno anche tante altre patologie e che assumono tantissimi farmaci. E se questa continuità assistenziale che non vuol dire solo un collegamento e una rete efficace tra il medico di medicina generale e gli specialisti di riferimento che siano universitari o ospedalieri, ma anche assistenti sociali e associazioni di volontariate. Perché se questa continuità non esiste, nella migliore delle ipotesi, come ci ha spiegato bene il dottor Bruni nell'ultima conferenza, nella migliore delle ipotesi il paziente dopo un po' di tempo ritorna drammaticamente in ospedale. E insisto, nella migliore delle ipotesi. Tutte queste conferenze sono registrate, scusate una cosa importante che non ho detto all'inizio, queste conferenze sono organizzate in presenza presso lo Zenzero, ma con la collaborazione di Ecoistituto di Reggio Emilia Genova e del sindacato pensionati della CGL, Bassa Valbisagno. Sono registrate e possono essere viste sul canale YouTube dello Zenzero o sui social di Ecoistituto. Per me puoi chiudere la condivisione e aggiungo due parole. Ancora una cosa, a proposito di registrazione, volevo scusarmi dei problemi tecnici che abbiamo avuto il mese scorso. La registrazione siamo riusciti a recuperarla, è un po' rattoppata e adesso su YouTube può essere vista, con un pezzetto che è mancante, ma direi che è accettabile. E veniamo alla conferenza di oggi, il tema dell'incontro è il fascicolo sanitario elettronico. Beh, io ne ho parlato ogni tanto con qualcuno e mi dicevano cos'è? Una cosa poco conosciuta. Nel decreto legge 77 del 23 maggio del 22 e nel PNRR, dove ci sono dei finanziamenti ad hoc per questa cosa, si sottolinea come per una presa in carico efficace del paziente sia necessaria la rete territoriale sanitaria potenziata di cui sopra, ma anche una buona digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. Il fascicolo sanitario si colloca qui proprio. È uno strumento informatico attraverso il quale ogni cittadino con il proprio computer o il proprio smartphone può guardare e trovare e scaricare la propria storia clinica generata dalle varie strutture dove è stato ricoverato come paziente o in cura semplicemente o le analisi che ha fatto e può metterla a disposizione di chi vuole dando la password di accesso o automaticamente decidendo chi può accedere a vedere i suoi dati. Per approfondire questo tema abbiamo invitato il dottor Domenico Gallo, fisico già informatico della regione Liguria e più tardi si collegherà con noi il dottor Salvatore Urso, ingegnere informatico della regione Emilia-Romagna. Sempre andiamo a vedere le buone pratiche degli altri, a cui vorremmo porre una serie di domande per capire meglio cos'è e come si usa il fascicolo sanitario. Allora, tu vai con il tuo collegamento e io la prima domanda che ti faccio è cosa bisogna fare e cosa bisogna fare per attivare. Forse prima dobbiamo dire che cos'è, che è un argomento che si può prendere da molti punti di vista, anche tecnologici, storici, organizzativi e quant'altro, quindi magari in maniera non strategica saremo costretti a toccarli un po' tutti. Partiamo dalla visione sbagliata, forse può essere più utile. Si chiama fascicolo sanitario personale è un richiamo immediato a che cosa? A un oggetto, che è il fascicolatore, cioè un qualche contenitore dove noi tendenzialmente mettiamo dentro dei documenti. Quindi il termine fascicolo sanitario è un immediato suggerimento ad avere un'immagine mentale di che cosa? Di un raccoglitore di documenti sanitari. E di fatti lo è, almeno nasce così. Nasce in una maniera, potrei dire, simpaticamente sconclusionata in Italia, che però riflette, secondo me, ci pensavo questi giorni parlando con lei, riflette in una maniera molto profonda quella che è stata la strategia della sanità in Italia negli ultimi tre decenni. Mi sembra un po' assurdo dire, parto da un raccoglitore di referti e ci occupiamo di come la nazione Italia, a partire dal 1978, ha avuto una sua progettazione e l'ha anche cambiata per strada in alcuni momenti fondamentali che sono collegati alla modifica della politica italiana, al cambiamento della struttura dei partiti verso partiti di natura diversa e quant'altro. La storia della sanità che nasce dalla legge 833-78, che è la riforma sanitaria, e arriva fino alla sanità che conosciamo oggi, non ha avuto un percorso di tipo lineare, di tipo progressivo su certi argomenti, cioè ogni giorno, ogni volta un po' di più, migliorando sempre, ma ha avuto pesanti rivolgimenti di tipo strategico. Cos'è in sanità un rivolgimento strategico? Per esempio la concezione del rapporto pubblico-privato. La concezione del rapporto pubblico-privato dal 1968 oggi è cambiata profondamente. Parliamo anche di un periodo di anni molto lungo, per carità, però è cambiato e in realtà secondo me noi siamo un po' abituati sempre e comunque all'idea originale, quella che esce dagli anni 70 e inizia a svilupparsi negli anni 80, e ci sembra che i cambiamenti che sono stati attuati siano delle disfunzioni, delle disfunzioni organizzative, quando invece sono l'attuazione di un tipo di politica che i vari governi hanno fatto, fino all'ultimo, che ha moltissime contraddizioni, che ha moltissimi cambi di rotta, che ha moltissime anche cose, che è stata sempre la caratteristica di continue riconcertazioni tra il modello originale, che magari vediamo velocissimamente com'è, e il modello su cui in realtà la classe politica era attirata a applicare, in cui credeva eventualmente, oppure che lì veniva richiesto, e che ha portato fino ad oggi a una forma che noi conosciamo e che questi strumenti informatici, come sempre, rendono evidente. Perché io una cosa comparato sul mio lavoro, io ho iniziato a fare informatica, non mi ricordo più neanche, nel 92 mi sembra, prima dall'86, però poi seriamente dal 92, eccetera, eccetera. Quindi il sistema sanitario, come lo chiamiamo noi, il Servizio Sanitario Nazionale, cioè il nostro sistema sanitario, quello che nasce nel 1978, è sostanzialmente una italianizzazione del sistema inglese. Se noi guardiamo le sanità in Europa, il nostro assomiglia, è quello che assomiglia di più a quello inglese, soprattutto a quello inglese dell'inizio, di quando nasce nel 1945, è bene ricordarla questa data perché è fondamentale, ci sono state le elezioni nel 1945, la guerra era appena finita, in realtà era appena finita solo in Europa, e Churchill prende una battosta terribile. Era convintissimi che i conservatori avrebbero vinto, perché avevano vinto la guerra, invece, evidentemente c'è il contrario, e va forse un po' inaspettatamente al governo, un governo laburista, molto di sinistra, al governo di Etli, che mette alla sanità un lavoratore, che si chiamava Honor in Bivan, era un minatore gallese, si è andata a Cardiff, cioè il soldato alla statua di Bivan, perché Honor in Bivan è in realtà una delle persone più importanti per il sistema sanitario italiano. E Honor in Bivan fonda l'NHS, il National Health Service, che ha un'idea che era nuova, e non ce l'aveva nessuno, neanche Roosevelt l'aveva avuta, eccetera, eccetera, quella è completamente un'altra storia, quello di un servizio che fosse un servizio universale. La sanità era uno dei diritti fondamentali, il governo di Etli è quello che fa le grandi nazionalizzazioni, delle ferrovie e quant'altro, la scuola e quant'altro, dice che ci sono degli elementi, che sono quelli che poi sono welfare, infatti si chiamano sistemi beverage, questo welfare è fatto anche dalla sanità, e la sanità devono poterci accedere tutti nello stesso modo. Tutti nello stesso modo, non era vero neanche ai tempi di Bivan, però era vero che il battente di cui tutti potevano soffrire era molto alto. Per esempio, se qualcuno ama i film di Kenneth Loach, Kenneth Loach ha fatto un bellissimo documentario che si chiama The Spirit of 45, è lo spirito del 45, che parla appunto di queste lezioni, e che intervista delle persone che hanno visto partire il servizio sanitario inglese, i bambini, le cure d'ontoiatriche nelle scuole e quant'altro, perché l'Inghilterra era devastata, ma non era devastata solo dalla guerra, era devastata da un'iniquità che soprattutto negli anni 30 era fortissima, e su questo c'è il famoso libro di Orwell, La strada del Fiegan Pier, per vedere come vivevano le popolazioni operali. Ecco, e quindi da quell'esperienza lì nasce per la prima volta nel mondo l'idea che non fossero solo al modello del welfare tedesco i lavoratori che si facevano la loro mutua e i loro parenti usufruivano di questi servizi, ma un sistema che andava al di là di questa cosa. Ecco, questo sistema al cittadino, quindi tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro professione e le loro famiglie, dovevano avere una serie di servizi. E qual è la cosa fondamentale, per questo che lo dico, che fa Bivan? è che assume le persone per farlo. E il servizio sanitario nazionale inglese, come quello canadese, come quello australiano, da cui sono derivati, quello neozelandese, attraverso il Commonwealth, che infatti sono quelli che sono sempre più in alto nella classifica di qualità dei sistemi sanitari, e poi c'è anche l'Italia tra più gli altri, perché? Perché l'universalità dà un sacco di punti. Il fatto che tu abbia un sistema che è per tutti dà un sacco di punti. è considerato che tu abbia un buon sistema sanitario. Gli altri parametri vengono dopo. Noi stiamo abbandonando progressivamente questo sistema senza dirlo, per carità. Ma anche gli iglesi hanno avuto la taccia. E la taccia, infatti, quando dice voglio togliere il socialismo dalla Gran Bretagna, una delle cose che attacca pesantemente è la medicina socialista. No, cosiddetta. Ecco, quindi, diciamo, partiamo dal fatto che noi nel 1978 i nostri tre partiti fondamentali, la democrazia cristiana, la socialista e la comunista, si ispirano a questo modello che è un modello non liberale di servizio sanitario, perché siamo in un'epoca in cui non essere liberali è come essere pedofili ormai, perché è una cosa che non si può dire. è un'idea non liberale e infatti non è un'idea neoliberale, perché infatti la taccia lo dirà che questo sistema, come sarebbe il nostro se funzionasse bene, sono sistemi sanitari che non rispettano la libertà di scelta delle persone, perché la libertà di scelta della tua evidentemente è più importante del fatto che una persona disagiata possa avere le cure uguali alle tue. La bilancia è questa cosa. E pende pesantemente sempre di più verso l'idea neoliberale dell'individuo, dell'individualità opposta a quella della nostra società. Questo nostro sistema sanitario nazionale, quindi questa versione italiana del sistema, che è molto simile, perché? Perché il finanziamento del sistema viene dalla legge finanziaria, mentre invece prima anche sistemi come quello tedesco vengono da un complesso di finanziamenti in cui poi anche lo Stato entra, ma è molto più complesso. Anche la legge del 22, il Ministero della Salute e il Ministero delle Finanze. Sì, questo fa parte del nostro processo di passare lento e anche disonesto, perché il nostro passaggio di cambiamento di modello è avvenuto in maniera, insomma, un pezzo per volta senza dire qual è la strategia, no? Cioè, tolgo un po' di qua, tolgo un po' di là, questo non funziona, l'esternalizzazione, quant'altro, l'integrazione, fino ad andare verso un modello cui evidentemente la nostra classe politica crede di più che è un modello che nella loro idea sarebbe un modello di tipo quasi privatistico, che però si coniuga a quello esistente e quindi diventa un sistema misto. Secondo me il sistema misto non è quello che in teoria è scelto, è quello che di fatto si realizza per non far crollare il sistema. Ma se noi andiamo a vedere dalla riforma del Lorenzo a oggi, del Lorenzo è stato un periodo che era considerato un criminale, non so se ve lo ricordate, era del partito liberale mi pare, ma non vorrei stare liberale, l'ho già fatto. Ed è quello che cambia la legge nella maniera nella maniera in cui noi oggi ancora l'abbiamo. Perché il sistema scheletrico del nostro sistema sanitario attuale è quello della riforma del Lorenzo. Quello di una persona che è stato considerato un criminale era quello che aveva non so che cosa, i lingotti sotto il letto, i soldi nei cuscini, insomma, non so se siano vere queste cose qua, eccetera, eccetera. Però al di là di tutto questo signore così sputanato è la persona che ancora oggi quando noi pensiamo al sistema sanitario è il suo modello, è il modello che lui come sistema sanità porta al Consiglio dei Ministri e viene votato e che è quello delle aziendalizzazioni. No? Tutta questa corsa perché? Perché secondo me e questo lo vediamo nel nostro fascicolo che sono quelli che potrebbero anche essere dei malfunzionamenti se non fossero che sono la manifestazione di un sistema organizzativo per cui certe cose sono facili e certe cose non sono facili che deriva da questo processo che da De Lorenzo poi ha portato sempre di più a quello che abbiamo oggi l'ho chiamato un sistema misto perché? Perché come dicevo Bivan la grande rivoluzione è io sono l'erogatore sono responsabile e sono l'erogatore è un sistema che noi persone della nostra realtà sono affezionate perché fa parte un po' di quella idea di come posso dire di socialismo all'italiana che c'era un solo un solo ente per i telefoni uno solo ente per l'energia elettrica un solo ente per le ferrovie un solo ente per la sanità sono quelli che erano i baluardi del welfare degli anni 60-70 ebbene queste cose qua progressivamente sono andate a degradarsi e che cosa? E sempre di più il sistema sanitario gli piace pensare di essere un ente che regola che controlla che fa contratti che concorda ma non che eroga all'interno di una crisi anche delle università che lasciamo perdere perché davvero è difficile con questo casino che anche la riforma sanitaria ne vediamo le conseguenze rende difficile alla sanità di funzionare con qualunque modello ormai anzi con qualunque modello sempre di più spostarsi verso un sistema che non è privatissimo ma di accordi io anzi che darti io la prestazione vado da un'azienda vado da un professionista che te la dà come se fossi io questo è il grande cambiamento che abbiamo oggi questo cosa vuol dire all'interno del fascicolo sanitario eccetera eccetera che quando noi pensiamo sempre la nostra illusione e forse la nostra speranza dell'unicità del sistema questo sistema è l'intermediazione di lavoro quindi anche di risultati del lavoro tra entità molto diverse collegate in maniera professionale in modo vario con il sistema sanitario nazionale per cui abbiamo erogazione diretta classica eccetera eccetera le convenzioni storiche con la medicina generale e quant'altro il ricorso al privato accreditato che è il privato che ti fa le prestazioni alla base del pagamento dell'etiqueto eccetera eccetera i gettoni per il personale che fa la libera professione fatta dal personale dipendente che però può operare fuori poi c'è alla fine anche altre forme ne sarò dimenticato il privato pure e quant'altro in cui una persona all'interno del suo percorso tante volte di cura sempre più complesso magari con l'età ne incontra parecchi e qual è il limite e qual è l'aspettativa tornando all'inizio della domanda di questo fascicolo un coso che io ho dentro tutti i risultati del mio peregrinare o del mio percorso all'interno dei vari elementi della sanità quello che io ci vedo è l'idea che sia un sistema di integrazione che è diverso dall'essere un fascicolo perché il fascicolo è una cosa statica tizio finisce il suo lavoro fa clic e lo butta lì invece le persone che vogliono che cercano di recuperare secondo me quell'unitarietà che all'inizio era organizzativa che abbiamo perduto e che comunque nella domanda negli anni è molto più complessa la sanità rispetto agli anni 60 per carità ci sono un sacco di problemi quello che noi aspiriamo che ci sia lì dentro è anche una capacità di integrazione tra gli diversi elementi perché qua ti chiudo perché un percorso sanitario non è quasi mai un evento unico no dicevo poi ci torniamo perché nel tempo si è collegato il soldatore è scappato poi ci torniamo verso alla fine perché nel frattempo si è collegato Salvatore e tu facci vedere ora il fascicolo sanitario della Liguria che poi passiamo all'Emilia Romagna a chi ricolleghi perché è uscito e ti chiedevo se chiunque può collegarsi direttamente o se bisogna in qualche modo abilitarsi per collegarsi al fascicolo e cosa bisogna fare vedo che stai attivando un riconoscimento tramite Speed questo so che è già un problema per molte persone però tra gli organizzatori di quel momento la pubblicità tra gli organizzatori di questa conferenza c'è lo Spigl non vedo Sergio dove è finito e che è possibile farsi dare una mano per lo Speed presso lo Speed CGL chiuso il momento dalla pubblicità allora vai tranquillo all'interno di questo bailamme che ho raccontato eccetera eccetera la sanità si presenta all'inizio degli anni 2000 così composta con un'idea delle aziende molto autonoma e che è lasciata alle regioni perché mi ha tenuto nella cash il la log di prima ora speriamo che uscendo dal browser mi faccia entrare però spiega cosa stai facendo sì 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 ah me l'ha preso va benissimo ok in cui l'enfasi dell'organizzazione degli anni 2000 è sugli erogatori abbiamo visto la questione dell'arenza delle aziende le aziende sono autonome indipendenti rispondono alla regione le regioni rispondono allo Stato garantendo dei livelli essenziali di assistenza no e questo sistema formale sembra dire tutti hanno le freccette che vanno in su vanno in giù e tutto funziona in realtà cosa è successo in tutta l'Italia in alcune parti di più ogni parte di meno le aziende sono state sanitarie sono state sempre fortemente autonome un'autonomia che hanno espresso sempre e comunque appena potevano dove le regioni più politicamente più forti più organizzate più grandi perché anche qua c'è un problema di dimensioni hanno esercitato sulle loro aziende sistemi di controllo di governo e controllo più forti e altre più deboli alcuni si dice nulli le leggende sono molte questo cosa vuol dire che i sistemi informativi che sono uno strumento dell'organizzazione quindi non sono una tecnologia pura sono uno strumento dell'organizzazione sono stati sviluppati dalle aziende in tutta l'Italia non solo Liguria in completa autonomia quindi i virtuosi all'inizio del 2000 cominciano a mettere su sistemi informativi più o meno in maniera indipendente uno dall'altro anche perché la logica del direttore generale come è concepito quasi tutta l'Italia è di forte indipendenza competizione reciproca e assecondamento della regione questo è un po' il modo con cui si può i sistemi di misurazione della qualità in sanità sono molto complessi all'inizio non erano neanche fortemente sviluppate quindi e qua mi sembra di dire di c'è giusto dirlo la valutazione dei direttori generali al di là della condiscendenza politica che con i casi alti una cosa è bassa eccetera eccetera era sempre molto difficoltosa e poco basata sui dati ora mi sono sbagliato mi sono messo la felpa della della pubblicità della scuola superiore Sant'Anna di Pisa che è una di quelle che poi inventa un sistema di valutazione delle aziende degli ospedali aziende ecco quindi cosa vuol dire che tutti fanno sistemi indipendenti che sono orientati a erogare il servizio ai propri cittadini perché dei cittadini a fianco del confine non me ne frega niente ci peseranno gli altri quindi le regioni chi più chi meno hanno dato poche indicazioni sull'informatizzazione e che quindi si sono trovati a essere tutte diverse più o meno diverse distribuite in un certo modo mi bruci una domanda ah scusami è vero me la vi anche fate vedere perché lì c'entra anche l'Emilia Romagna quindi che è la regione del governo forte tra l'altro va davanti sulla Liguria allora quindi cosa succede in Liguria diciamo a casa nostra succede una cosa a parte il fatto che la squadro se l'era inventato tanti anni fa un fascicolo sanitario elettronico che si chiama conto corrente salute che aveva proprio l'idea di dire io faccio per i miei cittadini di Chiavari e dintorni solo per loro un sistema in cui all'inizio Antonio se lo ricorderà probabilmente si ritirano i referti invece che andarci eccetera eccetera però poi qual è il problema è che quando cambi scala e lo fai a livello regionale ogni azienda dovrà cercare di darsi degli standard dopo che partita senza essersi ridati senza che esistessero gli standard in molti casi e quindi quello che noi vediamo oggi dopo molti anni è una ricomposizione di questa complessità e diversità di base all'interno di un sistema che ha un discreto secondo me risultato di standardizzazione ecco e dico questo naturalmente accesso all'informazione vuol dire problematica di sicurezza no? questo lo sappiamo tutti perché abbiamo sul telefono una serie di sistemi delicati come quello bancario per esempio ma anche altri che ci danno servizi e che quindi aumentando il numero di servizi aumentando la complessità ci sono necessità di sicurezza questo è un sistema che segue le indicazioni ministeriali le indicazioni le dà al Ministero della Salità e l'Agid l'Agid è un'agenzia italiana che si occupa delle problematiche informatiche per la pubblica amministrazione si è deciso giustamente secondo me che la pubblica amministrazione abbia i sistemi più alti di protezione il sistema più alto di protezione ogni 2 3 4 5 mesi cambia allo stato attuale si è deciso che qua si entra con il sistema di speed che tutti conoscono perché serve praticamente per tutto per esempio prenotare il passaporto una cosa da dire la consiglia di documenti del passaporto si fa con speed se no uno si può sparare ecco quindi si entra a livello 2 perché i livelli di sicurezza che vanno da 1 a 4 per ora con 1 a 3 questo è il livello 2 è il livello che l'assistito può dare per vedere i suoi dati e i suoi dati sono la raccolta di non tutti ma di una parte di quelli che sono gli esiti tra virgolente cartacei di una serie di prestazioni che ha fatto prima ti ho chiesto per attivarlo bisogna fare qualche cosa grazie all'emergenza al covid non bisogna fare niente perché si è tentato allora le regioni costituiscono se non mi sbaglio le norme io spesso anche quando lavoravo me le dimenticavo abbastanza però forse questa non la ricordo le regioni istituiscono per ogni cittadino è scritta la sua anagrafe sanitaria quindi cittadini a cui eroga i servizi sanitaria costituisce il fascicolo a partire da una data fatidica che non mi ricordo quindi da quel giorno lì tutti gli eventi che è possibile recuperare secondo certi standard vanno messi lì dentro chi può consultarlo? il fascicolo è tuo ognuno ha il suo e vede le sue cose il meccanismo dello speed garantisce che sia proprio te con la tua volontà che decidi andarci dentro e ci farci le cose sì però io posso autorizzare tutti i medici del territorio italiano a vederlo per esempio la sua risposta è sì e no sicuramente la finalità deve essere questa il ministero credo che abbia stabilito un livello di sicurezza superiore per il professionista sanitario quindi sarebbe il cosiddetto speed bis quant'altro eccetera eccetera che credo che non sia ancora stato completamente sviluppato e implementato credo con ognuno magari verifichi allo stato attuale questo funziona come personale dovrà funzionare ovviamente in modo tale che una persona possa entrare in autonomia se gli consenta sul fascicolo di un assistito anche se l'assistito non è presente questo attraverso il sistema di delega che è già possibile biffare ma che non è operativo attenzione questo secondo me sarà un passo non banale è previsto poi lo vedremo all'interno del PNRR perché comunque stabilisce che la regione deve garantire che il livello di sicurezza con cui gli operatori entrano sia veramente quello stabilito dalla norma quindi un livello alto di sicurezza e quant'altro e poi sistemi di tracciatura degli accessi e quant'altro ma la cosa come dicevo prima noi aspichiamo che questo sia dentro sia un elemento che non è più il fascicolo e basta cioè un deposito delle cose ma sia un elemento operativo dei percorsi diagnostico-terapeutici dei percorsi di cura cioè l'obiettivo qual è sì di far entrare i medici ma troppo poco perché vuol dire far entrare medici infermieri altri professionisti della sanità contestualizzati dentro un modello di sanità che è collaborativo perché il fascicolo sanitario come diceva ha il nome sbagliato all'inizio perché parte con l'essere il deposito di documenti e si vuole che diventi qualcosa di più lo strumento che sia in grado di ricollegare quello che dal punto di vista contrattuale degli accordi delle gare e quant'altro è frammentato perché si è visto noi l'avevamo visto un tempo eccetera eccetera che una persona che ha una patologia cronica all'interno del percorso che fa si può vedere quanti erogatori cambia perché San Martino e la Sdre e il Galliera sono tre erogatori diversi quindi vuol dire trovare strumenti che siano in grado di vincere di superare la diversità e la complessità organizzativa e quindi riuscire a dare quella condivisione di informazioni che si ritiene essere dare un contributo di qualità alla cura delle persone in tempo di tempestività qualità della cura e quant'altro quindi quando si vedrà sta cosa qua quando gli operatori dovranno andare dovranno andare in massa dentro il sistema però all'interno molto probabilmente di un percorso che in un qualche modo non solo vedono le tue cose ma riescono a dialogare tra di loro ma infatti a questo proposito io mi chiedevo se il consenso dato può essere ritirato nel caso cambiassi referente allora è chiaramente una cosa come questa che dovrebbe chiamarsi portale nazionale della sanità oggi prima doveva chiamarsi giustamente fascicolo perché comunque questo progetto ha avuto definizioni obiettivi diversi ogni anno fino a diventare oggi quello che è il portale della sanità e diventare anche domani il portale della sanità va meglio che clicchi qualcosa se non sto qua mi si addormenta io volevo chiederti ci vedo la voce documenti cosa c'è cosa contiene posso aggiungere io dei documenti ora basta filosofia vediamo che funziona perché se no io sono più interessato a altre cose allora quali documenti ci sono dentro in teoria tutti laddove c'è un evento sanitario dovrebbe seguire la materializzazione di un'informazione che va all'assistito e agli altri colleghi di ogni ordine grado diversi che dovranno lavorare su questo caso quindi in realtà dovremmo vedere il referto lo è sempre stato il referto è un parte per il paziente in parte per un altro professionista che continua sulla base del fatto che raramente è un evento unico quello sanitario eccetera eccetera quindi qua dentro cosa ci deve stare sicuramente la prima cosa che è entrata dentro sono i referti di laboratorio i referti di laboratorio allo stato attuale cosiddetti territoriali che uno prende prende con le sue gambe va a farsi fare il prelievo e gli da un referto perché ci sono anche quelli che fai da ricoverato che sono gestiti in un'altra maniera e lì dentro perché è stato il primo primo perché c'era una forte pressione per fare questo l'altro motivo è che cosa che i laboratori di analisi italiani e europei in generale sono stati i primi a essere informatizzati per motivi di integrazione degli analizzatori e quindi i referti già da anni uscivano in questa cosa ancorché non standardizzati ancorché non standardizzati e poi vedremo cosa succederà al prossimo anno col PNRR e successivamente i referti di radiologia perché comunque anche la radiologia con tutta la sua complessità era dotata di sistemi informatici per la gestione della radiologia che alla fine costruivano un pdf firmato più o meno che poteva essere che veniva consegnato al paziente e quant'altro grosso problema con le immagini e vabbè non parliamo e via via fino a entrare quello che è stato il primo e più importante documento della storia italiana istituito con decreto alla fine degli anni 90 che era la scheda di missione ospedaliera che grazie al Signore nasce strutturata per cui c'è il campo 1 ci va scritto questo ci va scritto così il campo 2 e ogni volta che qualcuno viene dimesso viene costruita questa scheda eccetera eccetera e quindi sono gli end point di un singolo processo che avevano un documento istituzionale già esistente cartaceo che poteva la scheda di missione ospedaliera è un riassunto del ricopero che è diverso dalla cartella clinica deve essere fatto perché era il flusso al ministero un tempo si faceva a mano e poi man mano sono cominciati ad essere formatizzati diciamo che per stabilizzare un documento come la scheda di missione ospedaliera ci sono venuti dai 10 ai 12 anni in Italia prima che tutti eccetera eccetera arrivare al punto che le regioni che comunque vivivano sempre questo come un mal di pancia alla fine le regioni sono arrivate a dire ma potremmo fare delle modifiche per metterci anche questo quindi vuol dire che dopo un certo numero di anni il processo ha avuto un grande successo e condiviso si è radicato e quindi e noi troviamo questo tipo di documenti sanitari poi ce ne sono molti altri che possono essere tipo i referti ecco più complessi sono invece ad esempio i referti della specialistica perché la specialistica non si basano sul formato esistente ma erano sempre stati testo libero più o meno su anagrafiche magari codificate quindi anche quello però però ci sono forti studi di agenzie che si occupano di codifica nel mondo e che quindi potrebbero aiutare ecco quindi voglio dire in Liguria si trovano sicuramente questi no scusa tra i documenti trovo per esempio le vaccinazioni vedo il Green Pass per esempio e qua sono in fila al Ministero ecco fondamentale per capire gioia e dolori di queste cose qua no avendo noi un falso sistema sanitario nazionale unico questa cosa qua funziona a tre livelli perché primo prima la regola primo il documento è sempre comunque detenuto da chi l'ha fatto i documenti non vengono ricopiati e poi dati in consentazione ma ogni momento che voi cliccate su uno di quegli affari lì se della tre va all'archivio della tre va al San Martino ve lo rende disponibile per quella sessione e poi non ve lo dà più finché non lo richiedete con le credenziali quindi si è deciso di non fare il super server regionale o nazionale con tutta la roba dentro dentro ci sono solo lo dico in maniera brutalmente sarei bocciato probabilmente un esame gli indici sapere dove stanno le cose che cerchi sono i metadati voglio dire ci sono dei dati che permettono di sapere ma il documento non lo vedi non lo vedi finché tutta una serie di cose a quel punto lo visualizzi e una volta che c'è la visualizzazione questo non è sulla parte quindi vuol dire che le aziende hanno un indice che condividono con le regioni e le regioni hanno un indice tra di loro che è gestito nazionalmente questo perché perché ve l'ho detto prima ognuno aveva i suoi sistemi non si è partiti dall'alto verso il basso ma dal basso verso l'alto questa idea un po' da fili dei fiori che diversità è bello no? che era anche carina a me è anche piaciuta per un certo periodo però ha i suoi pregi e ha i suoi difetti quello dei suoi difetti è che se tutti sono diversi bisogna lavorare sul sistema di integrazione che è la cosa più complessa che esista più complessa che esista che invece se tutti ce l'avessero tutti uguali un po' la sovietica come dico io e vabbè non sarà il migliore del mondo però se non altro il problema della diffusione della condivisione della coscienza del sistema è molto più semplificato senti la voce inserisci documenti ecco inserisci documenti è una cosa simpatica dal punto di vista dell'assistito perché noi dobbiamo sempre pensare che questo sistema è duple fast da una parte è rivolto all'assistito perché la sua origine era quella era un sistema dell'assistito ci metto i miei dati così non li perdo quando voglio li tiro giù se voglio gli faccio do la password al mio medico gli li faccio mettere dall'altro lato invece uno strumento che è meno rivolto al paziente è rivolto ai professionisti e agli operatori elementi fondamentali di conoscenza per la cura a questo punto cosa si dice se tu hai un esame un documento un pdf di un qualche esame che hai fatto da qualche parte e te lo vuoi mettere dentro che te lo sei fatto te perché sei andato nel privato sei andato a Monte Carlo a farti un'attacca eccetera eccetera lui te l'acquisisce e te lo mette lì e tu sei responsabile di quello che hai messo mentre invece gli altri il responsabile è chi ha effettuato la prestazione quindi c'è un problema di responsabilità eccetera eccetera quindi per te va tutto bene perché sei te che ce li hai infilati il problema di questo fascicolo e diciamolo speriamo che nel 2026 sarà risolto quando finirà il finanziamento il grosso progetto nazionale è che un professionista cosa fa quando si trova davanti sta cosa qua ce ne sono parecchi qua quindi possono capire beh intanto gli manca un'informazione che è fondamentale ma ce li ho tutti gli esami anche quando uno va con la tua cartellina non sa se ce li ha tutti però un conto è passare da un sistema in cui c'è uno che gira col sacchetto ha un sistema che è un portale nazionale e che quindi io ti dico che se questa persona tu devi lavorare su questo caso c'hai dei documenti con la massima certificazione medico-legale che tu puoi utilizzare per fare diagnosi dare delle medicine e consigliare degli interventi è un problema che i medici questo dell'incompletezza dell'informazione ci sono cresciuti dentro però è anche vero che con questi sistemi uno dice io voglio essere sapere anche e quindi uno che si carica i documenti da solo qualcuno sì qualcuno no magari quello c'ha una cosa che non lo fa sapere non la dice non la vedi non è il massimo però è la base della nostra legislazione neoliberale per cui il garante ha stabilito che tu questi documenti qua sanitari che l'ASLA ha fatto e condivide non sono completamente suoi ma sono soprattutto tuoi quindi se vuoi te li oscuri quindi da un lato il caricamento autonomo può essere franamentario dall'altro posso oscurarlo io come sai non lo so perché non li ho mai oscurati i miei però c'è un modo per farlo vabbè sì sì no ma poi c'è l'assistenza ecco questo è interessante secondo me questo come tema del dibattito perché è un dibattito che non è banale questo c'è la libertà dell'individuo abbiamo avuto le epidemie quindi le legislazioni di emergenza cioè che l'ho rotto non si vede più niente io non ho fatto niente lo giuro no è andato questo è il bai la connessione quanto mi dà adesso io sono a pagamento adesso e allora se paga zero la risposta sarà scadente adesso potrebbe portarci fuori già siamo un po' in ritardo è solo microfono 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 è solo che per me è stata una notizia il fatto che ci si può è stata una notizia il fatto che ci si può collegare con speed senza dover fare nessun'altra manovra che di solito questa cosa ti prego saranno sei mesi che io lo dico non lo dico vabbè per me è stata una notizia quindi mi sono collegato poco fa dal mio smartphone e mi dice che il mio medico curante può inserire dei dati c'è una scaletta questa è la domanda c'è una scaletta ti dispiace ti dispiace grazie se deve andare via lo riceviamo gliela raccontiamo si guarderà la registrazione il dottor Brasetti sono disponibili posso invece richiamare l'attenzione su un'altra cosa la risposta che costa poco quindi la poterà ma dai ti prego stiamo in ritardo c'è l'ingegner Urso da un po' che ci aspetta voglio dire posso richiamare la tua attenzione invece lì in basso a sinistra appuntamenti CUP cioè mi chiedo si può prenotare visite, esami pagare il ticket spostare un appuntamento sì allora nell'ottica del portale quindi di strumento operativo quindi di non end point ma essere dentro il processo eh ormai è chiaro dal sistema bancario un po' ma dai portali dei comuni e quant'altro che alcune operazioni che venivano fatte da addetti della pubblica amministrazione e quant'altro ma da un certo periodo in poi in questa ottica di recuperare profitto nelle maglie di qualunque cosa uno se li fa da sé no? è anche un po' questa logica del è andare un po' in questa direzione cioè tu ti li fai da sé quindi diventi compartecipe del lavoro del lavoro che si faceva quindi da lì si si può quindi fuori dal fuori sono dentro il fascicolo perché si è deciso che il fascicolo fa tutto quindi fai anche una serie di cose che erano sistemi che erano autonomi che sono stati integrati qua dentro che tu sostanzialmente facendo click li richiami hanno un'interfaccia che ti consente di fare delle cose visto che ti sei autenticato perché comunque il problema dello speed non è stato un problema da poco perché questo esisteva prima anche senza speed avevi le credenziali regionali per entrare però la credenziale regionale per entrare era troppo poco quindi la regione Liguria è stata una subito anche un po' per pararsi eccetera eccetera perché comunque su queste cose non si scherza di mettere il livello di sicurezza pesato una volta che tu sei nel livello di sicurezza che sei riconosciuto amministrativamente ebbè puoi agire con responsabilità dentro una serie di cose tra cui la scelta revoca del medico che magari non so se qua c'è cambio del medico c'è cambio del medico è un termine veramente orribile perché non mi piace come italiano però funziona eccetera eccetera puoi prenotare puoi pagare e quant'altro in cui si è agacciato al sistema e saranno sempre di più questi pomelli che verranno filati in questi portali perché sono quelli che appunto quando tu sei andato a lavorare torri la sera anziché guardare la televisione ti metti lì e ti fai un po' l'operatore cup un po' l'operatore della magrafe un po' quello della banca un po' cerchi il certificato di famiglia e quant'altro e quindi lavori anche di notte intanto mi scuso con l'ingegnere Urso che l'abbiamo fatto attendere fino adesso e la mia domanda buonasera ingegnere l'ingegnere Urso è informatico della regione Emilia Romagna e se Antonio ce lo dà in grazie sì sì ma lo fa Antonio spero che lo metta lì e quello che io volevo chiedere era se il fascicolo sanitario è uguale in tutte le regioni italiane diciamo è formulato in modo molto semplice perché per esempio so che in Emilia Romagna prima del fascicolo esisteva già una forma di questo tipo progetto sole mi pare si chiamasse e che probabilmente ha facilitato l'introduzione di questo fascicolo all'inizio il dottor Gallo con noi ci ha fatto la storia del fascicolo come è arrivato in Italia come è stato pensato non so se lei sintetica naturalmente ma se lei vuole focalizzarsi un po' sull'Emilia Romagna gliene saremo grati sì salve allora buonasera a tutti intanto ho ascoltato con piacere anche l'intervento del dottor Gallo e allora in fascicolo in Emilia Romagna appunto in pratica l'ha descritto benissimo appunto dite mi sentite giusto sì 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 lo sentiamo è praticamente quello che ha sintetizzato appunto il collega in precedenza il fascicolo cioè tutto nasceva dall'infrastruttura sole che era l'infrastruttura che aveva implementato la regione Emilia Romagna per permettere la condivisione dei dati tra le strutture sanitarie e i mezzi di famiglia che appunto a seguito anche della normativa del fascicolo ha permesso appunto poi l'evoluzione nel fascicolo sanitario elettronico le informazioni e i servizi disponibili sono quelle appunto che ha fatto vedere appunto in precedenza prima il collega con il fascicolo della Liguria quindi l'alimentazione della documentazione dei servizi come il cambio medico scelta del medico prenotazione autocertificazione quindi tutta una serie di servizi perché come appunto diceva il fascicolo è diventato quindi poi uno strumento come un accesso unico da parte degli assistiti ai servizi sanitari digitali perché non è più soltanto appunto la raccolta di documenti ma è anche il punto in cui fornisci gli servizi nasceva appunto ripeto dalla necessità di condividere i dati con il medico di medicina generale e si è evoluto quindi anche con la normativa questo ha permesso quindi anche poi con questa iniziativa del PNRR che prima diceva il collega appunto intanto il decreto del 19 maggio del 2020 aveva permesso di attivare il fascicolo con tutti perché appunto una delle prime difficoltà era proprio quella quindi il fatto che fosse l'assistito con un'azione positiva che si recava presso delle strutture a poter attivare il fascicolo invece con il decreto del 19 maggio 2020 questa ha fatto sì che il fascicolo fosse attivato per tutti però è saputo che poi si aspetta sempre un'indicazione nazionale per il recupero del pregresso perché ci dovrebbe essere una campagna per la possibilità o meno di recuperare i dati pregressi detto questo quindi invece con il PNRR ci sono invece tutta una serie di iniziative che in teoria dovrebbero arrivare a definire questa omogeneità e maturità del fascicolo uniforme sul territorio nazionale in contemporanea quindi si sta lavorando con tutta l'infrastruttura nazionale di interoperabilità per garantire quindi che i fascicoli siano interoperabili tra le regioni mettendo però anche quegli indicatori che non sono soltanto qualitativi ma anche quantitativi quindi con il numero di referti prodotti sul numero di prestazioni erogate in modo tale appunto ad arrivare al 2025 barra inizi 2026 con una maturazione uniforme perché appunto poi l'obiettivo sarà che il 90% dei documenti siano nativi digitali compresi anche appunto il collegamento dell'MMG perché poi vale quello che si diceva prima non è soltanto necessario avere il documento ma è importante appunto che sia il medico che lo possa guardare sono gestiti appunto anche tutti gli oscuramenti che sono appunto sia possibile da parte dell'assistito in autonomia tramite il fascicolo oppure appunto anche in fase di erogazione della prestazione appunto chiedere che un documento sia oscurato o meno per il medico naturalmente modificando anche questi consensi anche in occasioni future alla generazione così come la stessa appunto consenza all'alimentazione può essere espresso appunto in più volte durante l'utilizzo in regione mila romagna ad esempio si è avuto anche un'accelerazione nella raccolta del consenso alla consultazione grazie anche agli accordi con le farmacie territoriali che appunto raccoglievano appunto i consensi alla consultazione tant'è che siamo arrivati a oltre l'87% di consensi alla consultazione espressi oggi appunto c'è una nuova sfida perché appunto riprevede tutto un adeguamento dagli nuovi standard piuttosto appunto che nuove logiche per l'alimentazione del fascicolo che come appunto anche la regione Ligure e tutte le altre regioni stiamo impegnati in questa fase ma infatti su questo io volevo portarla sulla domanda che aveva fatto prima il medico di medicina generale che purtroppo se ne è andato che è sul profilo sanitario sintetico una nota dolente di tutti i fascicoli sanitari in Italia perché vedo anche non so un articolo del 18 gennaio che per chi è interessato è reperibile sul sito dell'Uzenzero in cui si fa un bilancio dei vari fascicoli in Italia alla voce profilo sanitario sintetico che possiamo far vedere c'è scritto deve essere compilato dal medico di medicina generale e in tutti in Italia quel campo è vuoto drammaticamente perché senza quel campo proprio da paziente cronico diventa difficilmente utilizzabile cioè io come paziente lo uso molto mi scarico le analisi cose tutto quello che si diceva è tutto quello che può servire ma se io finisco un incidente finisco in un pronto soccorso e ho perso conoscenza non è pensabile che i medici del pronto soccorso guardino dieci pagine del mio fascicolo sanitario ci vorrebbe un profilo sintetico che dice questo paziente assume un anticoagulante e ha questo questo e quest'altro è fondamentale però i medici non gli compete e mi chiedo non potrebbe quella parte non potrebbe essere alimentata automaticamente dai dati del computer che il medico di medicina generale ha nel suo nel suo studio alimentare automaticamente il fascicolo e lo domando a tutti e due se vuole intervenire prima con lei se no dico una cosa veloce perché quello che dice lei non è soltanto però una questione tecnica è anche una questione di responsabilità e organizzativa perché uno dei problemi appunto che nasce proprio dall'utilizzo del patient summary è che lo deve compilare il medico di medicina generale usufruendone poi appunto gli altri professionisti quindi c'è anche una questione di responsabilità tant'è che l'ultimo decreto del fascicolo quindi quello di settembre 2023 ha indicato che è possibile per i professionisti delle strutture sanitarie consultare sicuramente il profilo sanitario sintetico anche se il consenso non era espresso ma qualora appunto ci fossero dei dubbi possa appunto invece anche andare a consultare dell'altra documentazione questo è un attimo per superare a quello che può essere appunto un problema legato all'aggiornamento del patient summary così ad esempio è previsto che tu puoi consultare il profilo sanitario sintetico precedente in tutto il disegno del nuovo PNRR comunque c'è anche la costruzione di una banca dati nazionale dei dati sanitari che è appunto detto EDS l'ecosistema dei dati sanitari personalmente spero che sia quello il punto in cui uno potrebbe andare a raccogliere le informazioni dell'assistito perché comunque è alimentato con le prescrizioni erogazioni documenti clinici tutti i dati strutturati per cui si spera che possa essere quello superando anche appunto tutte quelle che sono le criticità organizzative nella compilazione patient summary non si sente sul fascicolo sanitario elettronico della Liguria mi faceva vedere il dottor Brasesco che lui c'è scritto il medico può inserire il profilo sanitario sintetico lo può fare oggi? io dico una cosa più politica intanto qua ci sono un sacco di laureati in medicina voi avete ben chiaro cosa sia un referto di laboratorio ben chiaro cosa sia un referto di radiologia ben chiaro cosa sia una scheda di missione spedaliera il profilo sanitario sintetico patient summary la traduzione italiana di patient summary voi l'avete mai visto ve l'hanno insegnato da qualche parte a scuola no semplicemente è un documento che non è mai esistito e che sarà utilissimo ma che non c'è nella tradizione della nostra medicina quindi una delle difficoltà ora io con i medici medicinali ci faccio volentieri battaglia però su questa cosa dico sono tra tutti i professionisti quelli chiamati a contribuire al fascicolo sanitario con un documento che è innovativo un documento che è innovativo vuol dire che al di là che ci possano essere stati dei processi di consolidamento degli standard i nostri documenti sanitari si sono consolidati nel tempo in maniera posso dire un po' forse poco strategica molto dal basso fino ad arrivare ad avere dei formati che sono riconosciuti che sono utili eccetera eccetera questo nasce da zero nasce per una necessità di tipo della sanità elettronica e questo è il primo problema secondo me che non c'è chiarezza su cosa sia anche perché dovrebbe e questo so che Agida ha lavorato assieme al ministero poi per fortuna sono andato in pensione che si è detto sì vabbè sto profilo sanitario eccetera eccetera però non è che noi possiamo pensare che ogni medico d'Italia ha un suo modo di scrivere un testo e quindi quelli che poi li leggono ne hanno 36 modalità in cui una cosa è scritta prima o la dopo perché se vogliamo che serva per il lavoro è chiaro che deve essere pensato in un altro modo quindi io contesto tutta la retorica che è stata fatta fino all'altro ieri sul fascico sul passion summary ne condivido che siano delle cose più utili però bisogna anche chiedere delle cose che abbiano senso ecco anche perché ogni sistema del medico vicino generale ogni suo programma che utilizza chi lo usa per gestire visite ne ha uno diverso che è la stessa cosa ma fatta in modi diversi è chiaro che il progetto che si pensa adesso parte dalla codifica parte dal finalmente prendere una decisione su come questo patient summary come si chiama in italiano più profilo sanitario sintetico deve essere fatto e questo qua forse potrà essere fatto un braccio di ferro con la medicina generale affinché venga prodotto questo documento documento che dovrà avere però e questo lo dico perché ho un'altra difficoltà delle caratteristiche innovative e importanti perché il referto del laboratorio noi lo seguiamo benissimo cosa vuol dire dal punto di vista profondo che quel giorno quel tizio al prelievo stava in quel modo e io gli ho fatto il referto se io faccio una sdo vuol dire che io quel giorno o quell'ora ho dimesso quella persona in quelle condizioni quindi c'è un end point temporale preciso per la fine di un evento sanitario questo qua che si chiede al medico generale è di mettere in un documento una cosa che è continua ed è difficile secondo me e anche per questo scusami le problematiche medico-legali non sono banali sì ma allora è sbagliato scrivere scusa Salvatore questa è la pagina la vedi la pagina del fascicolo del profilo sanitario sintetico nel fascicolo sanitario della Liguria io paziente e non medico di cui non so nulla di queste dinamiche di cui ci parla il dottor Gallo io leggo in questa pagina trovi il profilo sanitario sintetico caricato nel tuo fascicolo dal tuo medico puoi scaricarlo cliccando lì e bla bla a questo punto io al mio medico che peraltro è andato via gli dico ma perché non me l'hai caricato no? e io credo che lui volesse dire ma io come medico ho l'autorizzazione posso farla questa cosa perché mi risulta nuova da come si è espresso mi pare no? faccio un passo in avanti rispetto a questa cosa che dicevi tu il dottor Brasesco che era il mio medico curante anche il tuo medico curante mi ha chiesto subito adesso ma io posso ho la possibilità di inserirci il profilo sanitario sintetico io ce l'ho lo ricavo automaticamente da mille win ce lo posso scaricare direttamente sul fascicolo sanitario sintetico? se può farlo tecnicamente in Liguria non lo so è chiaro che se noi pensiamo a uno strumento che lavori in sicurezza e che quindi possa essere preso da un professionista che sta in Sardegna sta in Veneto e quant'altro che quindi non conosce eccetera e ne vede tre o quattro sul lavoro questi dovranno avere degli standard quindi posso dire sicurezza è la stessa sicurezza che si richiede a un elotocardiografo e la si deve chiedere anche a un software sanitario quindi ci deve essere alla base di questi profili sanitari dei pazienti dell'MBG che vadano al di là della scelta che può avere fatto una ditta più felice o infelice più espressiva o meno espressiva di un'altra perché bisogna arrivare a un documento che abbia il massimo della sicurezza sicurezza che deve essere pensata non dal medico generale che lo produce ma da chi lo deve leggere perché quella lettura può cambiare quello che è un'azione di tipo sanitario su un paziente ecco io quindi non ce l'avrei messo allora non ce lo mettiamo a questo punto chiederei all'ingegnere Urso com'è la situazione in Emilia Romagna se io vado a cliccare sul profilo sanitario sintetico nel portale dell'Emilia Romagna trovo una dicitura di questo tipo oppure no o trovo il profilo del paziente è chiaro c'è nel senso il profilo sanitario sintetico è uno di quei documenti che è previsto e che deve essere compreso all'interno del fascicolo per cui chiaro che lo trova anche da noi così come appunto l'ha visto sul fascicolo della Liguria diverso il discorso se è alimentato o meno con questi documenti perché come ho detto prima non è una questione tecnica a livello tecnico sono informazioni che sono riportate già nella cartella clinica del medico e questa avviene già con Millewin piuttosto che con cartella sole che è la cartella che utilizziamo qua in regione Emilia Romagna e se un primo collega ha detto se non sa se appunto il grado adesso di alimentazione da parte di Millewin in teoria secondo l'indicazione che aveva dato il ministero adesso tutti gli applicativi devono essere accreditati con appunto il livello centrale per cui in teoria tutti dovrebbero essere in grado poi di poter generare questo documento però distinguerei appunto la questione tecnica dalla questione invece poi come si diceva prima di responsabilità e di compilazione del patient summary perché anche generandolo con un automatismo comunque alla fine poi il documento lo deve firmare un medico di medicina generale per cui ad oggi è un documento nuovo un medico di medicina generale non lo so avrà indicativamente un massimale di 1500 assistiti cioè se si dovesse mettere lì a generare 1500 patient summary vuol dire che deve andarsi a leggere tutti i documenti patient summary che produce per ogni singolo assistito le sue responsabilità se poi quello che è riportato è corretto non mettiamocelo allora e poi soprattutto deve tenerlo aggiornato perché non è come il referto di laboratorio che è passata la festa gabbato allo santo questo in teoria se ci sono dei cambiamenti in un stato di salute della persona devono essere tempestivi quindi non è banale ma infatti era quello che diceva però però non mettiamocelo allora non facciamo finta però se non facciamo cioè se non lo mettiamo non partiamo mai e non si arriverà mai da nessuna parte quindi nel senso è un gioco come diceva prima bisogna bisognerà crescere e fare proprio anche di questo di questo documento è chiaro che io butto lì allora un'altra problematica il medico medicina generale deve produrre questi documenti con l'assistito che può almeno oscurare dei dati allora Nico capisco perfettamente le difficoltà di natura prettamente organizzativa o di governance diciamo rispetto al fatto di riuscire ad avere compilato questo documento senza il quale il fascicolo come ora non il fascicolo 2.0 del PNRR ma il fascicolo come ora non ha senso perché se io ho un repository di documenti accattastati lì senza uno strumento che mi consente di inquadrare la situazione medica di una persona e questo lo può produrre solo il medico di medicina generale quei documenti sono poco utilizzabili da qualsiasi professionista abbia accesso perché dovrebbe disperdersi nella consultazione di n infiniti documenti per cercare di capirci qualcosa e ricavare un quadro generale che invece dovrebbe essere già fornito e quindi capisco le difficoltà organizzative ho dato anche un'occhiata alla struttura che dovrebbe avere il documento effettivamente ha un livello di accuratezza forse perfino eccessivo è molto complesso sono 7-8 no no va bene va benissimo e quindi le difficoltà organizzative la resistenza dei medici eccetera però perché io vedo sul portale del governo sulla compilazione sul tasso di compilazione da parte di medicina generale nelle varie regioni ciò qui vabbè è inutile che ve lo faccia vedere mi crederai queste sono le barre che individuano il tasso di compilazione di varie regioni delle varie regioni dove l'Italia è a zero è l'Italia scusate la Liguria è a zero perché probabilmente il dato non è anche pervenuto non è in estate e almeno una dozzina se non di più adesso faccio fatica a contarle hanno una percentuale minima del 65% ma più facilmente 90% fino al 100% ora o non è una domanda capziosa magari questa informazione come dire la dicitura che riporta qui non è non è quella che capisco io qui la definisce medici che alimentano l'FSE con il profilo sanitario sintetico del paziente per cui io da ignorante consultando il sito governativo capisco che in molte regioni quel campo è pieno diciamo quella informazione è presente magari non è così però io capisco questo al di là di questo ora senza entrare in polemica men che meno con Nico certo oppure mi fai altre cose mi avveleni o cose così no io se si può avere una valutazione anche se vuoi un po' politica voglio dire su su come la regione Liguria ha gestito la governance della compilazione del fascicolo nella versione attuale rispetto ad altre regioni perché la mia sensazione ma posso sbagliare non voglio dire e poi comunque tu avevi un altro ruolo questo è il tuo conflitto penso è che non sia stata particolarmente proattiva rispetto a questa cosa ci sono state mille motivazioni di ordine politico organizzativo di rapporto con gli ordini professionali con i medici eccetera ma apparentemente in altre realtà queste problematiche sono state risolte così come la regione Emilia eccetera scusate riprendo il filo del ragionamento il quadro che io complessivo ma posso sbagliare perché mi sono occupati di fascicoli ma del comune e non della sanità non ne so nulla il quadro che io complessivamente ho del fascicolo sanitario Ligure che sia stato fatto in qualche modo un po' per inerzia con poca proattività sugli aspetti soprattutto di governance o anche di come dire di spingere oltre i limiti minimi del fascicolo che peraltro non abbiamo detto che forse sono un'informazione da dare che il prospetto sarà anche io non mi ricordo ma che si chiama il passion summary diciamo in inglese che è più facile ricordare è uno dei componenti fondamentali perché la normativa già dal 2015 distingue fra il nucleo delle informazioni minime che ci devono essere e le altre esornative che possono non esserci tipo le prestazioni farmaceutiche o cose di questo genere ecco dicevo che anche rispetto a di far avanzare la logica del fascicolo ha un portale di servizi per il cittadino un po' come sono i fascicoli del cittadino non dico quello di Genova ma in generale e più indietro rispetto ad altra realtà tipo l'Emilia Romagna perché se noi guardiamo il portale dell'Emilia Romagna si vede che effettivamente i servizi che si possono che il cittadino può attivare dal fascicolo non sono solo quelli della consultazione dei referti ma sono dei servizi che entrano nei processi operativi del dispiegamento del servizio sanitario nelle sue varie articolazioni cioè posso fare delle cose insomma posso prenotare ma più c'è qualcosa anche nel fascicolo Ligure poco secondo me e soprattutto questa prospettiva non è mai stata assunta come diciamo strategica no no è vero posso dire con certezza va bene speriamo che col col con il 2026 si facciano dei passi avanti un'ultima cosa mi veniva in mente ma me la sono scordata e quindi so tentare per risponderti un po' ma chi spiacerebbe se Antonio se mi fai vedere la diapositiva che ha appena messo Nico scusami Salvatore poi ti chiedo la tua opinione sull'Emilia Romagna questo è un articolo che è uscito su Altro Consumo a dicembre del 23 dove c'è il confronto fra le varie realtà delle varie regioni ovviamente l'Emilia Romagna ma così come la Lombardia che forse è una sorpresa hanno tutte le voci flegate cioè tutto è stato realizzato però da questo articolo la Liguria non è messa malissimo e il profilo scusami e il profilo sanitario sintetico da tutti gli articoli di monitoraggio risulta un problema nazionale tutto il resto che appunto prima Nico ha puntato di più sulla politica che sulle cose che ci sono però tutto il resto c'è le tante cose ci sono anche nel portale della Liguria tante cose che sono utili al cittadino senza altro in quel quaderno delle lamentele che intendiamo fare e presentare in regione alla fine di questo nostro ciclo di conferenze si parlerà di tante cose però il fascicolo sanitario della Liguria permette di scaricare tutta una serie di cose che l'articolo di altro consumo illustra e ve lo potete leggere sul sito com'è la situazione in Emilia Romagna Salvatore guardate allora non sono pienamente d'accordo comunque il fascicolo è già una realtà ed è uno strumento è chiaro che se uno c'è il profilo sanitario sintetico lo dovrebbe andare a guardare un medico in caso di emergenza perché dall'altra parte c'è Salvatore Urso che non ha pezzi di carta e che quando gli danno un referto in mano lo perde neanche il tempo di uscire dall'ambulatorio avere una possibilità di andare da uno specialista di un'azienda e sapere che questo medico può consultare la mia documentazione senza che io li presenti del cartaceo c'ha del vantaggio ma se io vado da uno specialista ad un oculista non mi aspetto che lui vada a guardare il mio patient summary ma aspetto che lui vada a guardarsi l'ultimo referto di specialistica che è stato fatto piuttosto che quegli documenti che gli servono su quel momento per cui è chiaro che per una situazione di emergenze o altro il profilo sanitario sintetico ti può dare un quadro immediato fermo restando tutti i problemi che si diceva prima il grado del fascicolo della regione Milermagna diciamo che ha un grado di alimentazione significativo che è previsto appunto che è nato anche da quel lavoro fatto in precedenza quindi con quella uniformità e coinvolgimento e cooperazione con tutte le aziende sanitarie nel uniformare anche la tipologia e le casistiche di alimentazione del fascicolo il patient summary è una di quelle attività che si spera che anche il PNRR in base al supporto del livello nazionale coinvolgimento dei medici e il chiarire anche alcuni aspetti possa essere un ulteriore tassello di crescita del fascicolo ripeto il fascicolo per la fine non è soltanto il singolo documento del patient summary è sia uno strumento come l'unico punto di accesso alla sanità digitale per i cittadini piuttosto appunto che la raccolta e la condivisione della sua documentazione il microfono la domanda di Francesco non me la ricordo tutta voglio dire una cosa secondo me sulla proattività della regione Liguria nei confronti del fascicolo eccetera eccetera questa davvero è una cosa che richiede un approfondimento secondo me sul comportamento delle regioni nei confronti di questo tipo di progetti e nel rapporto con lo Stato ci sono regioni che per esempio hanno avuto e sono le regioni che guarda caso hanno la sanità più forte le chiamavano il ministero le corazzate le corazzate erano Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana politicamente due due quattro sistemi completamente diversi noi pensiamo che il Veneto è forse il sistema che è la regione che punta di più sul servizio pubblico pubblico di erogatore e crede meno nel convenzionamento Lombardia è tutta basata tradizionalmente sull'altro sistema quindi già sarebbe interessante un po' capire anche come si sono mostrate queste regioni sono regioni che non hanno mai avuto alternanze e sono regioni che hanno certe dimensioni e quindi il comportamento delle regioni grandi con stabilità politica di qualunque genere sia ha comportato che anche progetti molto diversi avessero forti continuità tanto è vero questa è un'idea una lettura mia che ho fatto negli anni eccetera eccetera così come all'interno del io lo chiamo centro-destra moderato il PD però va bene chiamiamolo centro-sinistra giusto per educazione quindi regioni centro-sinistra per esempio è diversa l'impostazione dell'Emilia Romagna da quella da Toscana proprio nel rapporto pubblico-privato nel modo di rapportarsi con i sindaci io conosco meglio quella da Toscana da Pisa però e ho visto una serie di cose forse perché Enrico Rossi era stato un sindaco prima non lo so però davvero ci sono in queste quattro queste regioni qua hanno un loro marchio i loro progetti che sono dipendenti e che sono forse l'orgoglio e la perseveranza come hanno portato questo tipo di progetti è uno dei fattori di perita di forza del progetto nazionale perché queste quattro regioni hanno fatto di tutto per continuare a farsi magari bene ma è cazzi loro scusatemi il termine ma è così quindi quando noi parliamo cos'è il rapporto stato-centralista d'evoluzione ma sono queste le cose anche da capire che sono anche modelli all'interno del centro-centralista molto diversi la Liguria è una regione di mezzo le regioni di mezzo di dimensioni sono quelle che hanno avuto le alternanze è vero che i funzionari regionali i satrapi sono sempre gli stessi ma cambiano molte cose e soprattutto c'è una cosa interessante da pensare in Liguria questo che è stata una caratteristica di grande continuità quando sono state formate le ASL che era il 1992-93 tutti hanno fatto le loro ASL e la Liguria ne aveva 5 oggi 2024 la Liguria è l'unica regione che non ha mai cambiato l'assetto delle aziende e ne ha mantenute 5 l'Emilia Romagna ne ha 3 non so se ci mi spiego la Toscana ne ha 3 noi ne abbiamo 5 quindi quando tu cominci a capire non è proattiva nel fascicolo e che questione non è questione del fascicolo cioè è un'impostazione noi non abbiamo noi abbiamo delle aziende sanitarie con tanto di direttore generale che sono più piccole di un distretto di un'ASL di un'altra regione no? io mi sono sempre nel mio lavoro guardato le marche perché le marche sono tanti quanto noi vecchi più o meno noi noi Friuli e le Marche abbiamo lo strato della popolazione che sono simili noi siamo più vecchi l'uno un po' meno eccetera eccetera no? beh quante ASL hanno queste regioni? una noi cinque no? un'ASL piccola come l'AS4 non è che voglio criticare questo io sto dicendo solo leggendo una cosa magari anche come il contraddito sono molto più vicino ai cittadini perché sono più piccole beh è da considerare come cosa però comunque sia una regione piccola come la nostra si governa cinque ASL le Marche è una e sono stati i primi a fare l'ASL l'unica regionale e hanno le province che sono distretti noi distretti abbiamo quartiere in qualche paese cioè quindi questo indipendentemente di chi ha governato la Liguria lo stile di governance comunque sia uno stile di alta conservazione è perché non è che mi puoi dire che noi siamo più lunghi degli altri siamo stretti sì vabbè abbiamo le montagne anche le migliori romani c'è le montagne vada Piacenza ci hanno tre ASL quando sono passati e non è che sono nati con tre ASL lui lo sa bene hanno fatto le hanno unite i sistemi informativi che sono il sistema nervoso dell'azienda hanno fatto un'opera al loro interno di questi come fanno le banche quando una compra l'altra non è che gli lasciano il suo sistema informativo cento anni cioè lo cambiano e hanno cominciato una serie di lavori di razionalizzazione della gestione delle informazioni la Liguria ha sempre privilegiato un altro stile che è quello di una forza grande del territorio rispetto al potere centrale questo per me è una cosa di cui si può pensare come mai è successo ma magari va pure bene così è meglio degli altri non so io dico solo che è diverso non trago conclusioni perché non le so però io mi accorgo che è diverso quando qua tu decidi in Friuli che saranno un po' meno di noi però un ufficio decide che sistema c'è qua ce ne sono cinque io l'ho fatto io quello l'ha fatto il mio cugino ora vediamo cioè l'essere questo fatto che componenti della nostra regione e noi lo siamo benissimi quelli sono l'imperiese e il chiavarese sono sempre state talmente forti talmente rappresentative hanno generato una classe dirigente anche in sanità talmente forte talmente competente in realtà che pur venendo da territori piccoli hanno sempre avuto un peso più forte e comunque noi ci troviamo in una situazione del genere quindi quando tu mi parli di che è diverso lo stile con cui l'Emilia Romagna affronta il fascicolo sanitario eccetera eccetera io dico e ci credo sarebbe impossibile che avessero un modo diverso di fatto perché la regione si contraddistingue per questa questa caratteristica qua una frammentazione che però è una molta una forza che ora dire che è dal basso sembra quasi bello non voglio dire questo comunque una forza dei territori estremamente superiore rispetto alle altre regioni ecco quindi quindi t'ho fregato eh ma benissimo rispetto però al aspetta aspetta non voglio fare il dibattito ma rispetto al profilo sanitario sintetico però ci sono 12 regioni che teoricamente se è vero il dato qui non sono solo le quattro corazzate ma so eh scusate posso vedere qual è il dato visto perché c'è c'è un dato sul monitoraggio trimestrale fatto da Agi dell'agenzia per l'Italia digitale eh in cui non riporta che eh il patient summary è così presente cioè indica allora io questi indicatori qua che ho visto sia quelli che che fa il ministero sia quelli altra consumo secondo me sono sbagliati sono sbagliati intanto perché non c'è scritto da nessuna parte questi questi indicatori come si misurano numero dei patient summary per ma ogni quanto aggiornato non si sa è chiaro che questo tipo di indicatori di tipo massivo in sanità non è che siano tanto belli sono anche un po' pericolosi perché comunque ognuno dice quello che vuole noi siamo stati soggetti tu se lavori all'asla che c'hai sette otto enti che ti chiedono dei dati uno è Agi due non è eccetera eccetera sono lo stesso gruppo di informazioni in una maniera diversa e in alcuni casi i LEA sono diversi da quell'altra cosa eccetera eccetera e quindi questo comporta che io in realtà a questi tutti questi grafici eccetera eccetera non è che non mi ci sono mai appassionato tanto e non mi ci appassiona adesso devo dire una cosa su che ora io non sono tanto di destra no? però l'approccio che c'è stato sul PNRR adesso per esempio sul fascicolo che dal 2026 come momento di realizzare uno strumento nazionale e ci mette mi pare un miliardo e passa ecco me lo rende credibile rispetto a tutta l'ideologia che è stata fatta in passato da chiunque sul fatto che fossero solo questioni di buona volontà eccetera eccetera perché secondo me con la salute non è bene scherzare ci vogliono strumenti altrimenti professionali la stessa professionalità che si richiede a un attack va chiesta anche a un software va chiesta anche a un'integrazione non è che siccome il computer a casa ce l'hanno tutti e la TAC no allora quello può essere fatto in una maniera improvvisata purtroppo di improvvisazione in questa storia ce l'è stata tanta e ogni regione ci ha messo la sua caratteristica al fare questa cosa qua è chiaro però secondo me che permettere voglio dire un pdf non firmato dentro un sistema fatto ancorché da un medico generale che non ha concordato con un altro come farlo eccetera eccetera io non so se è un passo avanti della sanità non vorrei che fosse un passo indietro perché è tanto bello poter mettere dei numerini al numeratore di questi cazzo di indicatori però bisogna anche vedere se quello poi è uno strumento di lavoro che serve se nel momento in cui diventa un elemento chiave perché se non è un elemento chiave ce li possiamo mettere anche tutti ecco io credo che ci sia stata soprattutto da quando c'è data di mezzo Agid che ha un po' bacchettato un po' tutti qua va bene ha dato il suo contributo tecnico e scientifico al sistema che le cose si sono rese più difficili forse in alcuni casi impossibili ma si è migliorato appunto l'approccio una cosa tecnica è una testimonianza la cosa tecnica quando ho fatto ad esempio le vaccinazioni del covid ma tutte le volte che sono andato in un ospedale mi hanno fatto compilare tre o quattro pagine di profilo sanitario se sono allergico se ho avuto delle operazioni chirurgiche ecco e questo qui per il covid è in mano alla sanità nazionale chi si è andato a vaccinare ha dovuto fare e firmare quel documento non è responsabilità del medico è responsabilità del paziente questo fanno quando fanno anche se vado in pronto soccorso mi fanno una richiesta di cose che dico sotto la mia responsabilità non si potrebbe fare qualcosa di analogo in questo caso testimonianza nel mio fascicolo sanitario ci sono solo richieste di prestazioni non ci sono nessun risultato di prestazioni purtroppo arrivati 80 anni mi è andata bene per 80 anni ho dovuto un po' vivere in ospedale per due o tre volte di tutte le analisi e cose che mi hanno fatto in ospedale non è comparso niente io non sono stato capace di trovarlo ho provato a guardare in quello di mia moglie e ho scoperto che in quello di mia moglie a seconda dell'ASL ha un indirizzo diverso di abitazione vabbè particolare allora sì è chiaro che quando io spero che questo progetto PNRR vada in fondo e si realizzi davvero quello che lei dice quello che serve sia l'utente che quant'altro per questo credo che anche il lavoro che sia stato fatto quello che conosciuto sia stato un lavoro che comunque ha impegnato le regioni in una maniera enorme soprattutto anche perché questo processo di 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 mettere il questo sistema alla giusta importanza alle aspettative che le persone hanno avuto è avvenuto durante il covid quando uno già ci aveva anche sul lavoro noi eravamo operatori altro sì sì ma volevo proprio far vedere per esempio ecco anch'io sono pieno per quanto riguarda il caso specifico io sono pieno di anch'io di prescrizioni e quant'altro però ogni tanto c'ho anche il referto del laboratorio ecco no quindi alla voce referti non perché sono raccomandato perché cioè ecco diciamo ancora tornando un po' quella che è la mia mania della frammentazione è chiaro che se uno va a un privato accreditato e che quindi va con una prescrizione dell'as e va si vede il mio colesterolo no questo è basso ecco trigliceridi ecco non volevo farli vedere trigliceridi allora è chiaro che quando poi uno va al privato accreditato il privato accreditato non alimenta questo sistema e quindi i risultati non se li vede quindi quando io dico andare al privato accreditato tante volte più comodo tante volte però questa risorsa per esempio per ora non è attivata ma cosa vuol dire questo il discorso deve tornare a essere politico qua dentro perché perché tu devi contrattare col privato accreditato quindi con la confindustria devi fare un accordo che loro diventino nodi di alimentazione eccetera eccetera che in teoria vuol dire che devono mettersi su un sistema come quello che hanno le ASL con la sicurezza che hanno quelle delle ASL e mantenere i refletti di questa persona e essere attivi alle 3 del mattino quando uno si alza e vuol vedere il coso che va alla chiamata e va in quel server lì che deve essere autenticato e tirare dentro il documento ecco quando dico che tanta frammentazione poi dal punto di vista la tecnologia fa vedere quali sono anche i limiti quali sono i risultati anche le difficoltà che un sistema fortemente frammentato ha perché un conto che tutti gli esami di laboratorio siano dentro server della 3 della 3 che gestisce ma se uno va nel privato quello dove ce li ha non ce li ha da nessuna parte perché non è stato fatto l'accordo sul fascicolo sul patient summary con la medicina generale in realtà oltre a tutte le problematiche tecniche manca l'accordo qualcuno che dica in maniera definitiva controfirmata noi da oggi facciamo questo lavoro qua in questo modo perché il modo corretto è commerciale di relazionarsi con categorie che non sono tuoi dipendenti perché tu se sei un dipendente ti arriva l'ora e ti dice c'è una norma da domani si fa così se uno ha un contratto il contratto giustamente in Italia giustamente in Italia ha certe caratteristiche che se cambiano le condizioni devi ricontrattare e quindi vuol dire che tutta questa logica che noi pretendiamo tra virgolette che pensiamo che sia positiva eccetera debba entrare nei sistemi di accordi da adesso o un poi ma perché in realtà era da dieci anni fa in poi non è ancora stato fatto e quant'altro perché tu dici allora a questo punto ho un abbassamento della qualità se tu mi vai a fare un esame a un centro che non è integrato a questo alcune regioni hanno fatto gli accordi e acquisiscono dal privato accreditato quindi quando è l'ASL che paga i cose altre regioni sono indietro però non l'hanno ancora fatta quindi vuol dire se hai scelto come ha scelto l'Italia in maniera non consapevole questa forma mista ad ampia partecipazione commerciale di tanti enti che tutte queste questioni debbano essere elementi fondamentali e imprescindibili di tutti i prossimi contratti io dico da adesso un po' e sarebbe stato meglio da prima un po' perché queste cose già si sapeva e questi sono elementi non dico di debolezza di caratteristiche che questo sistema si porta dietro perché questo sistema che si porta dietro che ha una forte indipendenza è indipendente se il sistema di cura è un sistema collaborativo vuol dire che in qualche modo la collaborazione va costruita perché di fatto non c'è perché la logica dell'autonomia dei vari sistemi che a pagamento contribuiscono a fare prestazioni del sistema sanitario non ce l'ha di natura quindi va creata dal punto di vista della forza politica qua entra dentro il discorso secondo me di fare si colloca cioè che deve essere chiaro alla nostra regione che questo è un elemento fondamentale che deve cambiare quindi lo stile la modalità di rapporti con questo sistema misto che concorrono a fare salute Bruno ha chiesto la parola allora scusate giusto per quello che diceva il collega è vero anche però che il covid ha determinato una grossa rottura col passato perché poi sempre il decreto 34 del 2020 ha indicato che tutte le strutture pubbliche e private devono alimentare in maniera tempestiva e continuativa il fascicolo sanitario elettronico è chiaro però che per arrivare a questo c'è bisogno in tutti i passaggi che diceva pure prima il collega perché in un accordo appunto di fornitura con il privato accreditato devi prevedere che all'interno di questo accordo lui alimenti il fascicolo chiaro che non puoi cioè il covid ha fatto un salto perché appunto ripeto prima il fascicolo era attivabile su richiesta dell'assistito invece poi dopo è diventato attivo per legge e adesso hanno messo appunto l'obbligo per tutti di alimentare con tutta la documentazione ma chiaro che per arrivare da un 0 a 100 o da un 20 30 quanto era prima a un 100 sono previsti tanti passaggi dagli accordi con i privati coinvolgimento dei medici l'accordo con io ricordo che era agosto 2020 quando era stato indicato che il medico di medicina generale o il pediatra facevano i tamponi al personale scolastico quando in realtà appunto poi questo accordo nel pratico non arrivò fino in fondo quindi per arrivare quindi a quello stato di maturità del fascicolo c'è bisogno quindi di tutti questi passaggi perché poi il fascicolo ha il front end verso l'assistito e poi verso il medico per la parte di consultazione dei documenti ma è chiaro che poi dietro ci sono tutte quelle attività tecniche ma soprattutto organizzative che devono arrivare a garantirti quello che è definito nelle norme poi dalle indicazioni nazionali e barra regionali scusate Bruno dunque prima di tutto mi pare che questa chiave che ci dà Nico Gallo di ricercare com'è il fascicolo sanitario nelle quattro regioni più importanti più importanti dal punto di vista anche del volume dei servizi che loro erogano che sono la Lombardia il Veneto la Emilia Romagna e la Toscana è un'indicazione speriamo che venga presa da degli studiosi da degli studenti da dei professori che le vogliono indagare perché ne impareremmo di grosse nella storia dell'evoluzione e dello sviluppo dello strumento informatico così come è successo proprio nelle nazioni più avanzate in Inghilterra sono partiti a un certo punto del 2000 con quattro record che sarebbe poi una traduzione un po' differente anche per il contenuto del fascicolo tre record che scusate quattro record che sono poi diventati uno il Canada è partito con un'unica modello nazionale e infatti il Canada sta all'altezza migliore di sviluppo e di maturità del health record cioè del fascicolo sanitario all'inglese nel mondo e sono partiti con una visione quindi studiare come è avvenuto sarebbero delle cose molto quindi ti ringrazio di questa osservazione che insieme è un invito però io volevo dire mi pare che sino a questo punto non è venuto fuori abbastanza perché ci siamo persi un po' con gli indicatori ma sai gli indicatori saranno anche imperfetti però permettono di quantificare dei discorsi e di fare prima di tutto delle comparazioni e in Emilia Romagna il progetto SOVE ha significato che le strutture ospedaliere tutte le strutture ospedaliere quelle convenzionate e quelle pubbliche hanno contribuito immediatamente al fascicolo sanitario e pertanto al medico di medicina generale è venuto fuori un discorso con una forza tecnica e politica che lo ha convinto andare oltre al suo orticello perché è vero che i medici di medicina generale in Emilia Romagna non saranno mica meno individualisti perché stanno a respirare l'aria dell'Emilia Romagna rispetto all'individualismo che hanno quelli liguri no non può essere una questione di clima e di respirazione però il fatto è che qui abbiamo una corporazione cavolo e questo mi pare che non sia emerso abbastanza che cosa ha fatto la regione e Alisa perché tra l'altro noi sinora la parola Alisa che per dirti a Urso che cos'è Alisa è una come dire una sovrastruttura sulle cinque aziende che avrebbe il compito di orientare e di gestire tutta la politica della regione è come dire il braccio della politica della giunta regionale qui in Liguria cosa ha fatto rispetto a queste corporazioni che sono ancora a scrivere con i loro strumenti di software inventati per tutt'altro come mille win sono lì a scrivere e non si rassegnano a mettersi in rete e a fare i conti col fascicolo perché è vero che gli indicatori sono sono imperfetti ma intanto permettono di dire che là c'è una compolazione un utilizzo estremamente elevato del fascicolo sanitario in Liguria non c'è e una delle ragioni è che cosa ha fatto sinora Alisa che come si sono comportati rispetto agli ospedali quanto hanno omogeneizzato del software degli ospedali e che cosa hanno fatto rispetto alle corporazioni dei medici di medicina generale che stanno riuniti nel sindacato questo mi pare che sia naturalmente non pretendo né delle risposte immediate ma voglio dire mette forse abbastanza carne al fuoco per fare una seconda puntata su questo fascicolo sanitario elettronico grazie però se per caso Urso vuole rispondermi rispetto al progetto Sole sarei contento grazie Bruno sì sì il progetto Sole appunto diceva nasceva appunto proprio per l'intento di condividere questi documenti sanitari tra i medici di medicina generale e le strutture sanitarie ed era uno strumento appunto di facilitazione questo appunto determinato che inizialmente appunto vi erano un numero di cartelle utilizzate dagli MMG diversi che venivano gestite anche appunto a livello centralmente tramite appunto la propria società in house fino appunto a che siamo arrivati appunto alla costruzione di una cartella unica per il medico di medicina generale quale appunto la cartella Sole cartella Sole appunto che nasceva con una collaborazione con i medici di medicina generale per costruirla più appunto in modo che fosse più performante per il medico anche qui comunque non nascondo che non ci sono state difficoltà ad oggi appunto la cartella Sole in regione minor magna è utilizzata da circa un 60% di medici di medicina generale poi è chiaro che non è detto che sempre appunto degli strumenti unici siano appunto la soluzione cioè l'importante è capire chiaro avere chiaro qual è l'obiettivo finale che cos'è che bisogna condividere qual è lo standard e che ci sia la collaborazione di tutti per poterlo fare chiaro che uno strumento unico ti dà un maggior governo e una maggior facilità di intervento e tempestività questo noi l'abbiamo visto appunto all'interno dell'episodio appunto del covid con la nostra cartella appunto siamo riusciti a implementare in poco tempo determinate funzioni tramite gli altri strumenti regionali che invece dovendo coinvolgere n altre software house piuttosto che altri professionisti naturalmente i tempi si allungano lo strumento sole oggi se dovesse essere superato per il medico di medicina generale ma anche il pediatra di libera scelta sarebbe un grosso problema chiaro che all'inizio invece è sempre stato visto come un'intrusione un qualcosa appunto fuori dal suo governo interno e quindi appunto c'è dovuto esserci questa attività anche di coinvolgimento e crescita insieme sono attività che ripeto non sono soltanto relative a una parte tecnica ma anche soprattutto una parte organizzativa bene vista l'ora io direi se non ci sono altre domande tenderei a ringraziare l'ingegner Urso il dottor Gallo e vorrevo annunciarvi la prossima conferenza che sarà il 20 marzo non più attenzione non è l'ultimo mercoledì del mese ma il penultimo e parleremo dei servizi di salute mentale come questi riusciranno a integrarsi nell'assistenza territoriale grazie a tutti e alla prossima